siano un bene che a nostra disposizione che coltiviamo e che portiamo avanti su tutto il fronte senza confini dove alle volte utilizziamo più l'aspetto emotivo per approcciare la natura e altre volte più l'aspetto descrittivo scientifico che tenta di un po' di razionalizzare quindi c'è un po' una commistione, un comune intendere tra il cuore e la mente, l'anima e la mente e così in questo contesto nasce anche la proposta che stiamo facendo in questo momento come osservatorio grazie soprattutto all'artista Loris Cecchini, alle curatrici della mostra l'altra è Giada che appunto si sta allontanando in questo momento l'altra è Giada che non è potuta essere qui oggi stasera ma sarà presente alle prossime ecco la scultura, l'opera che vedete appoggiata in modo lieve sopra il tetto del nostro osservatorio è un'opera che nasce da un concetto modulare, quindi un piccolo elemento come è questa forma trilobata che poi unita costruisce cose che hanno una complessità e hanno uno sviluppo che può essere in qualche modo per noi assimilabile a quello che fa la natura quando costruisce molecole, molecole organiche, quando costruisce le complessità ma anche la struttura dell'universo si può richiamare nei suoi filamenti a quello che vediamo qui fino anche, appunto è questo il tema di questa sera, anche al cervello umano le sinapsi, i neuroni che sono elementi che si ripropongono in strutture più complesse e che ci danno la possibilità a nostra volta di essere qui, ora, consapevoli di tutto ciò che ci circonda e che a nostra volta tentiamo di descrivere quindi in questo contesto cerchiamo di sviluppare i temi che la stessa scultura ci suggerisce, ci propone per approfondire, per conoscere meglio prima noi stessi e poi la natura che ci circonda ecco, stasera abbiamo qui, e lo ringrazio per aver accettato l'invito, il professor Francesco Pavone dell'Università di Firenze, professore ordinario all'Università di Firenze di struttura della materia ma la struttura della materia che lui studia è una materia molto particolare, direi, anzi, direi unica per noi e cioè il cervello umano in particolare utilizza gli strumenti della fotonica, della luce per investigare, per indagare i misteri del nostro cervello sono cose affascinanti che indubbiamente a mio avviso colpiscono quanto può colpire l'immensità dell'universo e i misteri dell'infinitamente piccolo, ecco, il nostro cervello che coglie tutto questo a sua volta è un grande mistero stupefacente che a volte sembra non aver confini, pur essendo semplicemente dentro una scatola cranica quindi il professor Pavone introdurrà il tema e l'idea che lui propone, che farà un'introduzione al tema vuole essere un colloquio, vuole essere anche aperto ovviamente alle vostre domande, alle curiosità e quindi creare un dialogo su ciò che naturalmente ci preme di più in assoluto la nostra testa, il nostro ragionare, il nostro sentire, i nostri sentimenti sono tutti lì, tutti qui dentro grazie Francesco, grazie a essere stato qui e buona serata grazie allora, intanto ringrazio Emanuele per questa bellissima occasione, in questo posto meraviglioso e diciamo che volevo iniziare prima con una sorta di confessione intima in questo momento della mia vita, carriera in cui si sono in maniera parallela diciamo evoluti dei binari scientifici, spirituali, sociali, artistici, culturali, sono presidente nel museo della scienza, a Galileo, a Firenze è arrivato un momento di fare sintesi è arrivato un momento per poter mettere, cercare di mettere tutto insieme e credo che mi sia trovato, forse non casualmente, nella mia evoluzione scientifica sono partito dalla meccanica quantistica ho lavorato a Parigi due anni su meccanica quantistica con Claude Quentano G, che è stato premio Nobel proprio in quegli anni proprio sugli atomo ultrafreddi e poi pian pianino ho iniziato a virare verso la biofisica la biofotonica, che è quello di cui mi occupo attualmente l'interazione tra la luce e la materia vivente fino ad arrivare, ormai da tanti anni a prodare agli studi, quella che chiamiamo neurofotonica cioè lo studio del cervello in interazione con la luce e in effetti questo paradossalmente riesce a mettere un po' tutto insieme prima Emanuele parlava di mente e cuore micro e macro, qui e ora, noi e l'ambiente ecco oggi parliamo di queste cose ma le inquadriamo da un punto di vista neuroscientifico mi piace partire dal micro e macro perché qui davanti abbiamo diciamo questi piccoli elementi che nascono dalle, se capisco bene dalla teoria delle particelle quindi da un mondo infinitesimamente piccolo e dietro abbiamo un telescopio che invece inquadra, diciamo, l'universo intero e io penso che il cervello sia esattamente questo nel senso che nel cervello quegli assi che scorrono lungo la parte spaziale che uniscono il nanomondo con il macromondo e quegli assi invece che scorrono lungo la linea del tempo che mettono insieme i milionesimi di secondo con gli anni, con i milioni di anni ecco nel cervello sono completamente collegati tra di loro quello che avviene nel cervello che è un sistema totalmente integrato da un punto di vista spazio-temporale esprime esattamente questo quello che avviene in un istante in un millesimo, in un milionesimo di secondo si riflette su milioni di anni quello che avviene in un miliardesimo di metro si riflette sull'intera popolazione della Terra com'è possibile questo? è possibile perché il cervello è un sistema totalmente integrato ed è talmente integrato nello spazio e nel tempo che moltissimi fenomeni, poi anche patologie nascono in un istante di tempo una sorta di Big Bang celebrale molte malattie tipo ad esempio l'Alzheimer che viene diagnosticato ormai nella sua fase finale quando ormai si sono aggregate queste che si chiamano placche amiloidi che vanno a distruggere letteralmente la materia celebrale e quella è veramente la fase terminale viene diagnosticata a 60-70 anni e ha dei risvolti, delle implicazioni su danni di tipo cognitivo di tipo anche fisiologico chiaramente ma è veramente la fine di un percorso che nasce a 25-30 anni quando si iniziano a creare ecco il Big Bang si iniziano a creare dei piccoli fenomeni a livello di connessione neurone-neurone si chiamano sinapsi ne parlava prima Emanuele sono quei piccoli bottoncini che collegano gli assoni di un neurone con i dendriti un neurone sapete è fatto da un corpo cellulare un unico assone e dall'altra parte diciamo una rete una ramificazione enorme di dendriti e ogni neurone ha circa 10.000 connessioni con altri neuroni quindi nel cervello abbiamo praticamente quasi 10-100 miliardi di miliardi di incroci diari connessioni è come se fosse una mega metropoli con 100 miliardi di miliardi di incroci questi incroci questi questi semafori sono tutti collegati tra di loro completamente e questa è la cosa meravigliosa quindi un semaforo che sballa nel tempo non istantaneamente fa sballare tutti quanti gli altri e poi si creano dei problemi nello spazio e nel tempo il funzionamento del cervello avviene a diversissime scale temporali è un gioco di squadra un grande gioco di squadra certi neuroni più vicini si mettono d'accordo si sincronizzano tra di loro e agiscono in maniera sincrona su scale dell'ordine dei millisecondi un millesimo di secondo dopodiché esistono gruppi di neuroni che sono sincroni tra di loro che poi si mettono d'accordo quindi si sale da una gerarchia bassa un livello superiore dove ci sono delle sincronizzazioni tra gruppi di neuroni già sincroni su scale di decine centinaia di millisecondi così si va avanti si va avanti si va avanti fino ad arrivare a scale di secondi quando per esempio quando dormiamo ad esempio il nostro cervello oscilla con delle onde si parla di onde alfa beta delta e così via tutte classificate a secondo delle frequenze di oscillazione ma parliamo di secondi di oscillazione ecco quelle oscillazioni così lente come le onde del mare che arrivano sulla spiaggia che sembrano lente che vengono rivelate dai vostri sismografi sono il prodotto di tante micro nano oscillazioni che messe sapientemente lasciatemi dire insieme creano questo enorme moto collettivo dopodiché da un punto di vista funzionale il cervello è ancora più complesso di questo perché effettivamente si divide in tanti di reti di comunicazione bene come se ci fosse che ne so la tangenziale l'autostrada piuttosto che la strada provinciale la strada comunale e così via ecco queste queste reti di comunicazione si chiamano network celebrali hanno funzioni che ancora sono abbastanza ignote ma che combinate differentemente danno dei comportamenti e man mano che si combinano tra di loro in maniera sempre più complessa formano quella che si chiama coscienza che ancora non si riesce a classificare non si riesce a spiegare forse non si riuscirà mai a classificare mai a spiegare per buona pace degli scienziati per la felicità di coloro che credono nell'esistenza di un dio o di un qualcuno di soprannaturale e in realtà diciamo noi siamo scienziati io sono diciamo un cattolico credente praticante ma prima di essere un cattolico un credente sono uno scienziato per me viene prima essere scienziato essere un credente e per cui la mia mentalità è quella di uno scienziato non posso essere fatalista diciamo non posso credere a un qualcosa che non riesco a diciamo a toccare a verificare ma qui si apre un capitolo di cui non parleremo oggi come faccio allora diciamo a conciliare il mio credere in un soprannaturale ma questo è un capitolo a parte però il cervello ha qualcosa di soprannaturale effettivamente perché la sua complessità e man mano che ci si entra nell'interno esplode sempre di più ed esplode in maniera esponenziale man mano che la scienza è andata avanti ed è riuscita a come dire a a capire sempre di più con l'aiuto anche delle metodologie che ci hanno permesso attraverso la risonanza magnetica l'attacca e adesso anche quello che sviluppiamo in laboratorio io mi occupo di neurofotonica quindi lavoriamo sia su umano noi abbiamo un progetto dall'Inaieci americano di mappatura del cervello umano con una risoluzione circa un miliardo di volte superiore alla risonanza magnetica nucleare oppure lavoriamo su degli animali in cui leggiamo e scriviamo sul cervello quindi programmiamo anche il cervello trasferiamo in formazione da un cervello a un altro cervello con la luce e di fatto diciamo la meraviglia è anche un po' la beffa per noi scienziati che man mano che entriamo in questo mondo del cervello apriamo una porta e ci si presenta una stanza con molte porte ne apriamo un'altra una stanza con ancora più porte e poi sempre di più è una storia che non tende a convergere sembra per cui è affascinante questo d'altro canto il cervello sembra essere quasi diciamo uno specchio della realtà anche quella spirituale alla fin fine perché nel cervello questa multidimensionalità spazio-temporale è anche una multidimensionalità di tipo organizzativo ci sono certe patologie ad esempio per farvi un esempio come l'autismo che non dipendono dal malfunzionamento di un'area cerebrale piuttosto che di un'altra area cerebrale infatti decine e decine di anni fa in maniera abbastanza grossolana e semplicistica si pensava che le aree cerebrali potessero essere come dire dedicate a specifiche funzioni in maniera abbastanza univoca questo non è vero nella maniera più assoluta noi lo vediamo ad esempio nei nostri esperimenti sui topolini dove ad esempio induciamo uno stroke cioè un infarto cerebrale vediamo tranquillamente con i nostri mezzi di imaging come nel momento in cui un'area cerebrale muore perché c'è un'occlusione che porta di fatto a morte cerebrale quell'area tutte le altre aree cerebrali momentaneamente prendono il ruolo di quell'area la sostituiscono e man mano che si fa la riabilitazione ad esempio noi occludiamo un'area motore quindi dopo lì non può muovere il braccio con una piattaforma robotica facciamo muovere il braccio fino a quando si riabilita come si fa in clinica si vede chiaramente che le aree cerebrali tutte le aree cerebrali prendono il posto di quell'area e per rimpiazzarla ma la cosa ancora più bella è che man mano che si si va avanti la riabilitazione si specializzano sempre di più le aree quelle si chiamano perilisionali vicino alla visione alla lesione e alla fine il cervello di fatto si specializza di nuovo in una configurazione di minima dissipazione di energia e questa è un'altra cosa che non riusciamo a spiegarci cioè il cervello dissipa un'energia bassissima pensate che per poter fare un ragionamento abbastanza complesso il cervello dissipa un'energia pari a quella di una lampadina a basso consumo 20 watt e se dovessimo replicare quello stesso tipo diciamo di di ragionamento logico con un computer consumeremmo 20 miliardi di watt cioè il cervello è un miliardo di volte più efficiente e da un punto di vista energetico di qualsiasi diciamo sistema elettronico che abbiamo ad oggi a disposizione quindi la natura effettivamente tende a minimizzare l'energia e quindi l'esempio che vi facevo è che il cervello si organizza ma si organizza nel miglior modo possibile allora il lavoro di TTIM delle varie aree cerebrali è fondamentale e una malattia tipo l'autismo ad esempio non è un difetto di una delle aree cerebrali ma è una tutte le aree cerebrali funzionano bene è una mancanza di coordinazione tra le varie aree cerebrali ma l'autismo cos'è? un problema relazionale? sì problema comportamentale? sì ma è anche un problema motorio è anche un problema funzionale vedete tutte le sfere la sfera che va dalla parte cognitiva alla parte emotiva ovviamente alla parte anche motoria vengono coinvolte perché? perché è tutto un sistema totalmente integrato e un aspetto molto bello di questa integrazione è la forma dove la forma e la funzione coesistono insieme e si e tra loro si si influenzano noi in genere siamo abituati nella nostra cultura devo dire molto riduzionistica poi parleremo anche di questo a associare una funzione ma una funzione molto spesso quando questa funzione diventa integrata deve essere associata anche ad una forma questo ci porterà poi alla fine di questa chiacchierata a parlare di neuroestetica e nel cervello funziona proprio così nel cervello funziona un po' come quando voi camminate su un campo no? e man mano che passate su un prato la vostra camminata lascia una traccia più ci passate più lasciate un solco una traccia e le memorie a lungo termine si stabilizzano proprio perché certi neuroni sono attivati va bene tecnicamente si chiama long term potenziation cioè quelle sinapsi dove passano quei segnali continuano ad essere perennemente attivate e rimangono accese sempre tutto il resto del cervello però cambia molto velocemente in 20 minuti il vostro cervello non è più lo stesso tutte le vostre sinapsi quelle non stabilizzate cambiano la loro attività ecco perché 20 minuti è un po' anche la soglia di attenzione quindi la forma è molto importante la forma è la funzionalità e di fatto ci sono certe patologie che sono dei difetti di forma ad esempio la schizofrenia la schizofrenia è lo stesso autismo come dicevo prima è un difetto di forma che si vede che per esempio il cervelletto di un autista di un soggetto autistico è differente le cellule sono posizionate in maniera differente e la posizione delle cellule nel cervello è importante una delle scoperte più incredibili secondo me che è quella delle cellule gps ci dimostra che esiste una proiezione tridimensionale di quello che ci circonda all'interno del nostro cervello è stato visto circa qualche anno fa con queste tecnologie di microscopia che utilizziamo non da noi da un gruppo di Stanford che ad esempio un topolino che passava sempre vicino ad un certo diciamo ostacolo accendeva sempre e unicamente quel tipo di cellula tra miliardi e miliardi quindi esiste una correlazione topografica tra l'ambiente circostante e quello che abbiamo dentro il problema è questa configurazione topografica avviene solo con i cinque sensi oppure no e quest'ultima cosa me la riservo nei cinque minuti però chiedo a questo punto ai fisici di tapparsi le orecchie perché però farò una proiezione un po' ardita diciamo ma lo lascio solo negli ultimi cinque minuti allora effettivamente tantissime cose diciamo vanno a alterare la forma del cervello le droghe ad esempio e non solo le droghe pesanti anche le droghe leggere ormai è acclarato che la marijuana va a modificare la struttura del cervello in maniera permanente ma non solo le droghe anche la meditazione ormai dagli anni settanta ci sono degli studi che dimostrano come la meditazione vada ad alterare la forma del cervello e ci sono degli studi che dimostrano come la meditazione ad esempio vada ad alterare anche la percezione la capacità percettiva ad esempio uno dei tanti studi sono stati fatti prendendo un monaco buddista e una persona che non faceva meditazione e mettendogli davanti uno schermo con delle facce e facendogli passare delle facce con delle espressioni differenti ma in maniera molto veloce se voi diciamo si chiamano immagini subliminali se voi fate scorrere in un video delle immagini a una velocità molto alta il vostro occhio non le percepisce e ovvero scusatevi il vostro occhio le percepisce il vostro la parte profonda del cervello le percepisce ma la parte che elabora l'immagine perché quello che vedete ora non è di sicuro l'immagine che avete sulla retina l'immagine che avete sulla retina è una specie di blob diciamo è il cervello che poi ricostruisce l'immagine allora è stato molto interessante questa cosa perché questo monaco buddista meditava aveva circa 4.000 5.000 ore di meditazione che è considerato il numero minimo di ore di meditazione per vedere gli effetti della meditazione sul cervello e meditava ha meditato molto su una pratica di meditazione buddista che si chiama pratica della compassione cioè meditava sostanzialmente su su un soggetto di compassione va bene quindi quello di portare l'amore agli altri sostanzialmente allora quello che è successo quindi sviluppando diciamo moltissimo l'empatia un'empatia che diciamo si può classificare da un punto di vista neurologico quello che è successo è che il soggetto che meditava man mano che si alzavano i frame rate cioè la velocità a disposizione l'altra persona non riusciva più a percepirli lui invece riusciva a percepirli quindi questo vuol dire che ad esempio una pratica cognitiva potrebbe essere la meditazione ma ce ne potrebbero certamente altre faccio questo esempio per farne uno tra tanti una pratica cognitiva effettivamente può alterare moltissimo le nostre funzioni cerebrali addirittura la struttura del cervello non a caso diciamo tante malattie neurodegenerative vengono rallentate da un'attività intellettuale che viene portata avanti quindi esercitare la memoria esercitare il ragionamento logico e così via quindi esiste diciamo questo tipo di come dire di capacità che abbiamo noi di poter di poter intervenire sul cervello e questo ci salva sul libero arbitrio perché effettivamente come molte persone che adesso si occupano di modelli del cervello molti e qui apro e chiudo una parentesi quando i miei colleghi scienziati dicono che con la scienza si può scoprire tutto diciamo peccano di presunzione a mio avviso perché diciamo i tools come i giocattoli con cui hanno a disposizione sono sempre molto limitati però uno potrebbe arrivare a dire vabbè ma tu hai una struttura cerebellare tale che insomma gioco forza sarai uno sossivo compulsivo sarai uno schizofrenico sarai ci avrai un certo tipo di depressione faccio per dire quindi se entri in un supermercato e spari a destra e a sinistra e ammazzi tutti beh non potevi fare altro diciamo no questo è parzialmente vero e infatti diciamo tutta la parte forense cambierà totalmente negli anni futuri quando capiremo meglio fino a che livello siamo liberi fino a che livello non siamo liberi e anche lasciatemi dire anche tutta la parte morale diciamo cambierà moltissimo su questo e qui sorrido e vabbè sorrido e qui mi fermo e d'altro canto allora uno può dire vabbè siamo fregati cioè noi adesso ci alziamo andiamo a casa andiamo a dormire cioè tutto e tutto diciamo come dire si può tutto predire in qualche maniera no più o meno ni nel senso che esiste esattamente quella quella parte che ci permette di avere una certa consapevolezza poi parleremo appunto di questo però quando vado troppo lungo che ci permette diciamo di poter agire in maniera proattiva se io sono una persona disordinata ad esempio e mi impongo di essere ordinato quindi di ripetere sempre quella stessa azione effettivamente quello fa sì che io stabilizzi un pattern neurale si chiamano cioè una una via sostanzialmente di di connessioni va bene e se lo ripeto nel tempo per via della long term potenciation diciamo la stabilizzo e quindi per me diventa più semplice essere come dire una persona ordinata e quindi sì insomma anch'io però non ce la faccio neanche forse morirò molto prima di riuscire a diventare un minimo è very long è very long però effettivamente è così però effettivamente è così e quindi abbiamo inaugurato alla mostra al museo l'altro giorno una bellissima esposizione che vi vi invito ad andare a vedere sugli orologi e a me diciamo la questione tempo poi parleremo anche di cronocezione la questione tempo mi ha sempre tanto affascinata e io non lo sapevo ma gli orologi nascono per una esigenza puramente spirituale dei famosi sveglie monastiche cioè erano nel 1300 nascono sostanzialmente in Italia per svegliare i monaci la notte per pregare va bene ma come mai i monaci devono svegliarsi sempre alla stessa ora e pregare sempre nello stesso luogo e ripetere sempre le stesse perché questa è una stabilizzazione di un pattern neurale sostanzialmente e quindi dopo un po' di tempo questo fa sì che quella pratica diventi più consolidata e vada un po' più in automatico a pilota automatico per intenderci va bene quindi esiste una parte proattiva nostra su cui forse potremmo innestare il libero arbitrio nel quale potremmo dire beh vabbè sì è vero io sono a meno che non ci sono delle patologie talmente graviche a quel punto chiaramente non ci si può fare nulla ma mediamente in un soggetto sano diciamo certo se uno si ammala di una depressione profonda non ce la fa diciamo ha bisogno di un aiuto chimico va bene però però chimico anche diciamo anche mentale ci sono tante pratiche meditative per la depressione ad esempio però però effettivamente è molto più complicato bene quindi la parte di struttura la parte di funzione la parte di forma hanno hanno un loro ruolo hanno un loro ruolo un loro ruolo molto importante molto fondamentale e in questo diciamo effettivamente possiamo dire che la storia non finisce qui perché io prima ho parlato di una scala temporale che si estende su milioni di anni centinaia decine di migliaia di anni diciamo ora nel caso dell'uomo un po' più corto sugli animali sicuramente su alcune specie animali sicuramente sì ed è la parte che è collegata a quello che si chiama l'epigenetica che cos'è l'epigenetica sostanzialmente e qui si apre un altro discorso meraviglioso sul cervello che tocca molte questioni dove spesso lasciatemi dire non voglio scusatemi quello che sto per dire non voglio con tutto il rispetto per le opinioni che ognuno di voi ha non voglio entrare in nessun tipo di ideologia vi parlo solo da scienziato va bene quindi tutto quello che ora dirò da ora in poi non è collegato a nessun tipo di ideologia molto spesso noi diciamo ridicolizziamo l'essere umano molto spesso rendiamo folcloristica la sua pittura in realtà è molto più complessa l'epigenetica fa sì che noi ci abbia un meraviglioso bilanciamento questo nel cervello ha un ruolo fondamentale tra il nostro codice genetico e quello che ci succede alla fine della nostra vita avremo impresso nella biologia del nostro corpo dei profondi cambiamenti perché tutto quello che ci succede diciamo con gli stimoli esterni attraverso tantissimi canali molto complessi cambia la biologia del nostro corpo quindi la biologia del nostro corpo non è legata solo al patrimonio genetico che di fatto sono le schede di programmazione con le quali poi diciamo la meccanica molecolare crea tutto il panorama di proteine di cui noi siamo composti che poi regola tutta la funzionalità delle cellule e tutta la nostra vita non è solo questo è una piccola parte questa c'è quello che ci succede quindi diciamo un bambino può nascere diciamo in una in una nazione con delle certe caratteristiche come dire etniche che in realtà anche lì diciamo non sono logistiche non sono localizzate infatti se andate a fare lo screening del dna di qualsiasi persona sulla terra il suo dna è sparso su tutta la terra ok e questo bisognerebbe dirlo a un po' di persone che credono nella nella razza che credono insomma vi ripeto non è ideologia è scienza quindi non esiste esiste non esiste la razza non esiste il concetto di razza non esiste esiste la specie ma non esiste la razza la razza è semplicemente un'idiozia umana e scientificamente esiste la specie e fu fatto questo esperimento molto bello non fu non è un esperimento una cosa ovvia ma insomma furono presi degli studenti in america alcuni di questi suprematisti bianchi anche di qua altri di là eccetera gli fecero il dna e i suprematisti i suprematisti bianchi scoprirono avere un secco di geni di persone di colore oh io che tragedia che tra un tradimento dall'interno colpo passo non solo ma diciamo geni che provenivano dall'africa dall'asia tutto il mondo tutto il mondo solo il 10% degli Stati Uniti solo il 10% ma c'è molto di più c'è molto di più nel senso che esiste una una problematica una problematica un'interazione sociale che fa sì che poi cambiando tutta diciamo la batteria chimica che abbiamo a bordo poi la parte genetica si influenza e l'evoluzione della specie è questo è questo è l'uomo che diciamo man mano che in una maniera iterativa diciamo scopre qualcosa la mette in atto cambia il suo ambiente l'ambiente cambia cambia la sua chimica cambiano i suoi geni cambiano le sue capacità e così via evoluzione quindi l'interazione con l'esterno cambia radicalmente il nostro le nostre schede di programmazione nei nostri geni che non possono essere chiamate schede di programmazione ma sono semplicemente uno dei tanti input va bene da qui discendono tante cose ma tante tante sentivo l'altro giorno una persona che una biologa che diceva uomini e donne uomini cromosoma X donne cromosoma X e Y diciamo ma la definizione di quella che è la propriocezione l'interocezione l'esterocezione che sono l'interocezione e la percezione degli organi interi la propriocezione e la percezione del sistema muscolo-scheletrico la cronocezione e la percezione del tempo l'esterocezione è la percezione degli eventi esterni tutto questo si riflette sulla coscienza sull'idea di sé su quello che una persona pensa di esprimere da un punto di vista sessuale da un punto di vista culturale da un punto di vista ambientale categorizzare in 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 un qualcosa che è così perché c'è quella molecola quell'altra molecola e quanto di più ascientifico e lasciatemi dire anche stupido esista senza offendere nessuno davvero lo dico umilmente ma lo dico anche da scienziato con l'orgoglio di della scienza dietro quindi non possono esistere diciamo barriere non possono esistere ideologie a priori e il cervello ce lo insegna perché è così perché è così perché è una sorpresa incredibile e quindi tutto questo e chiudo diciamo il mio breve discorso con la parte finale tutto questo non si esaurisce su come? no no non sono ancora arrivato poi te lo dico quando arrivo questo non si esaurisce solo con la parte lasciatemi dire che si evolve nello tempo ma anche nello spazio prima vi dicevo insomma quello che avviene su una singola sinapsi poi si estende su tutta la terra in che maniera? si chiamano relazioni sociali e qui si innesca un discorso molto nuovo molto interessante e noi stiamo lavorando su questo che fa sì che il comportamento di un cervello quando interagisce con un altro soggetto cambia cambia radicalmente noi abbiamo fatto un esperimento che adesso pubblicheremo tra un mesetto pubblicheremo sottometteremo per la pubblicazione tra un mesetto di due topolini con dei mini microscopi di un grammo e mezzo messi sulla loro testolina e si vede tutta l'attività cerebrale come se fosse una resonanza magnetica ridotta in un centimetro un grammo e mezzo ecco riusciamo a vedere che quando loro interagiscono tra di loro i loro cervelli si sincronizzano quindi esiste proprio una sincronizzazione tra due persone che stanno interagendo tra di loro questa sincronizzazione è la cosa molto bella che si vede in questo esperimento è che prima di innanzitutto i topolini devono conoscersi se si incontrano così non si sincronizzano dopo un po' che si conoscono eccetera dopo tre quattro cinque sedute iniziano a sincronizzarsi ma prima di sincronizzarsi i loro cervelli si strutturano differentemente in termini di organizzazione di segnali interne di funzionamento poi si sincronizzano e quando si sono sincronizzati i loro cervelli sono differenti cioè il cervello si prepara alla relazione e la relazione diventa identità infatti psicologicamente la relazione l'identità si definisce come relazione l'identità di una persona e la sua relazione col mondo esterno quindi questo vuol dire che quando in sociologia si parla di cervello sociale di coscienza sociale questo ha un correlato neurologico molto forte effettivamente questi due cervelli che si sincronizzano tra di loro si comportano come un cervello unico che non è nell'uno o nell'altro è un terzo cervello sostanzialmente che si chiama cervello sociale se questo avviene in un gruppo questo può avvenire questo è il prossimo esperimento che faremo esattamente con tanti topolini in un labirinto per vedere se insieme risolvono un problema molto prima che da soli e questo cervello sociale effettivamente può avere un impatto enorme e questo lo vediamo a livello sociale la dinamica di branco l'uno ha definito una coscienza sociale certo esiste una coscienza sociale può essere bellissima può essere terribile il nazismo è una coscienza sociale tremenda così come faccio per dire la coscienza sociale che anima i medici di emergency è una coscienza sociale positiva la coscienza sociale che anima un gruppo di ragazzi che violentano una ragazza è una coscienza sociale è un cervello sociale orribile ma è un cervello sociale si innescano cioè delle dinamiche collettive che fanno sì che certe cose si possono amplificare proprio perché esiste una una coabitazione tra due persone allora il problema che si pone adesso e quindi qui si entra nella nell'ipotetico è che di sicuro deve esserci una comunicazione cervello-cervello che va oltre i cinque sensi e questo è dimostrato è dimostrato scientificamente dico su riviste della famiglia Nature non su text insomma per intenderci ci sono tanti esperimenti che dimostrano questo e quindi deve esistere assolutamente noi noi lo vediamo in effetti lo abbiamo visto non so se lo pubblicheremo perché bisogna per dimostrare qualcosa del genere ci vuole diciamo perché ovviamente la comunità scientifica giustamente ci chiede una prova forte però noi vediamo una sincronizzazione tra due cervelli non solo quando i due topolini si guardano ma anche quando un topolino guarda l'altro e l'altro non lo sta guardando non vi siete mai sentiti osservati per esempio no? quindi c'è una forma di sincronizzazione allora la questione è esiste una forma di comunicazione cervello-cervello che va oltre cinque sensi in effetti ci sono dei punti aperti perché la come dire il modello del cervello che è esclusivamente bioelettrico cioè sostanzialmente o segnali elettrici o segnali biologici va bene non funziona perché perché i tempi diciamo i tempi di analisi di concetti complessi o di come dire comportamenti e processi cognitivi elevati sono molto più veloci molto più veloci di questo quindi deve esistere qualcosa qualcuno pensa che diciamo siano in gioco campi magnetici qualcuno pensa che siano in gioco dei fotoni che vengono messi per bioluminescenza che quindi viaggiano molto più velocemente qualcuno addirittura ipotizza che questi biofotoni a livello micro perché a livello macro non può essere abbiano una natura quantistica non lo sappiamo non lo sappiamo sicuramente però c'è questa c'è un esperimento uscito su una rivista che si chiama Scientific Nature scusate Scientific Reports che che dimostra questo ci sono due persone in due stanze separate una persona gli vengono dati degli stimoli visivi e si misurano questi fotoni si chiamano biofotoni che vengono amessi di cui ancora si sa molto poco nell'altra stanza e queste emissioni di fotoni sono sincroni con queste l'unica cosa che accomuna le due teste sono un campo magnetico rotante diciamo perfettamente sincrono sulle due teste ma poi per il resto non c'è altro quindi ci sono delle questioni molto aperte però diciamo ecco e qui chiudo un pochino però effettivamente questo ci porta a pensare che se vogliamo studiare la mente non possiamo studiare la mente da sola dobbiamo studiare la mente in in un'interazione con altre menti e soprattutto dobbiamo studiare la mente in relazione con il corpo ci sono tanti cervelli secondari c'è il cuore c'è l'intestino c'è la retina c'è la pelle sono tutti cervelli alla fine questi connessi qui apre un discorso gigantesco che non faremo sulla coscienza cos'è la coscienza ma se io scientificamente la coscienza la definisco come un input una lavorazione anche il microbiota ha una coscienza e noi siamo fatti di tante coscienze e questo è dimostrato scientificamente pensate che all'inizio del secolo scorso quando c'erano dei lavori negli Stati Uniti sulle ferrovie ci fu un esperimento che sconvolse moltissimo i neuroscienziati un operaio che stava mettendo candelotti di dinamite per piantare i binari aveva un paletto di ferro scoppiò la dinamite il paletto di ferro saltò verso l'alto e gli trapassò la testa entrando in uno zigomo e uscendo nella parte parietale non colpì delle parti vitali per cui lui dopo un po' diciamo non morì la persona però quello che gli successe a questa persona è che il giorno prima dell'incidente era una persona tutta a casa e chiesa andava messa tutti i giorni con una famiglia diciamo a cui teneva tantissimo eccetera subito dopo prostitute ubriacature cambiò completamente la sua vita completamente la sua vita eppure voglio dire l'educazione era quella la sua struttura celebrale era quella moltissimi trapiantati di fegato diciamo hanno problemi simili quindi effettivamente su tutti i convegni ci sono sulla coscienza si inizia a pensare che la coscienza è un qualcosa che fisiologicamente risiede in tante parti del corpo coscienza intesa come stati diciamo cognitivi molto elevati chiaramente non sto dando qui un correlato religioso chiaramente non è il mio compito e per cui effettivamente mente-corpo è importante studiarla e allora su questo abbiamo iniziato un lavoro per andare a vedere i correlati tra la mente e il corpo utilizzando i sensori indossabili quindi fasce EG battito cardiaco respiro acqua nei tessuti e così via e il nostro obiettivo è quello di a questo punto di andare a studiare la mente in un'integrazione mente-corpo e qui subentra l'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale ci permette di mettere insieme tutti questi segnali che sono molto differenti tra di loro segnali celebrali il battito cardiaco la respirazione l'acqua nei tessuti le molecole nei tessuti la dimensione delle pupille il trekking oculare la frequenza con cui sbattiamo le ciglia eccetera tutti i segnali legati le EG al sistema nervoso centrale tutto il resto alla parte la prima è cognitiva il resto è emotivo sistema nervoso periferico sistema autonomo periferico e con l'intelligenza artificiale cercare di tirar fuori sostanzialmente lo stato psicofisico della persona e questo in maniera molto pragmatica a livello sociale è quello che stiamo cercando di fare inserendolo in un contesto di benessere perché alla fine a noi cosa interessa noi scienziati che impattare sulla società in maniera tale si si capisce la mente si cerca la mente però alla fine le persone devono essere felici devono stare bene no? che significa che cos'è la felicità che cos'è il benessere allora no? beh sicuramente non è un qualcosa che attiene solo al cervello attiene alla mente cioè cervello corpo ma attiene anche all'environment alle relazioni sociali e anche quello che ci circonda questa architettura queste luci la persona che ci si è d'accanto la temperatura quello che ci è successo prima sono tutti fattori che contribuiscono al nostro stato psicofisico per cui ecco per chiudere questo lungo discorso io credo che la sintesi di cui vi parlavo all'inizio chiudo proprio con la sintesi c'è quello che si chiama cultural welfare cioè il benessere culturale ovvero è quello studio scientifico andando a monitorare questi segnali e andando a monitorare anche le molecole all'interno dei nostri fluidi corporei per esempio la saliva utilizzando l'intelligenza artificiale per metterli tutto insieme e definire degli stati psicofisici in seguito a certi determinanti della salute la World Health Organization e la Commissione Europea ha definito recentemente oltre ai determinanti classici della salute il fumo l'alcol la nutrizione dei determinanti sociali va bene con chi viviamo il nostro diciamo ambiente lavorativo eccetera e poi dei determinanti culturali l'arte la musica la spiritualità quindi nel cultural welfare il concetto che almeno si chiama One Health una salute a 360 gradi significa che non possiamo prescindere dal nostro stato di salute quindi dal nostro stato di benessere senza considerare quei determinanti della salute che sono non solo diciamo e unicamente come dire tipo fisiologico ma anche relazionale sociale un esperimento di neuroestetica che stiamo facendo al museo esattamente quello di prendere due persone non uno badate due perché in due che guardano un'opera d'arte hanno un'enorme amplificazione dell'opera d'arte soprattutto se queste due persone sono una coppia o amici di vecchia data padre figlio c'è un'enorme amplificazione va bene e e la musica in che maniera la musica può andare a determinare lo stato psicofisico è stato dimostrato addirittura che lezioni di storia abbassano tantissimo il livello di stress ad esempio tanto che addirittura in Inghilterra i medici prescrivono un'ora di teatro e in Emilia Romagna credo ci sia un esperimento in cui si chiama sciroppo di teatro i pediatri prescrivono sulla ricetta proprio un'ora di teatro per i bambini le mamme vanno in farmacia e ritirano i biglietti a due euro ha avuto un successone questa iniziativa ma non è una butade è vero funziona funziona veramente cioè se voi andate a vedere diciamo una mostra quando uscite siete un'altra persona se voi ascoltate un pezzo di musica che vi piace incide profondamente chimicamente fisiologicamente neurologicamente su di voi se voi passate una bella serata una bella cena con una persona che vi fa star bene incide profondamente ma anche semplicemente incontrare per 5 minuti una persona carismatica incide profondamente su di voi quindi noi dobbiamo ripensare il nostro sistema sanitario completamente non può essere più un sistema sanitario verticale deve essere un sistema sanitario verticale e orizzontale in cui diciamo i protocolli di benessere va bene che vengono fatti negli asili che vengono fatti negli ospedali che vengono fatti nelle scuole che vengono fatti nei centri religiosi e così via siano protocolli di benessere voi mi direte ma tu sei pazzo forse sarò anche visionario diciamo ma secondo me questa è l'unica strada in cui andare in cui diciamo questi differenti protocolli di benessere si devono relazionarsi tra di loro d'altro canto un bambino malato di tumore che la mattina va a fare radioterapia al Maier poi va a scuola poi il pomeriggio magari va al calcetto la sera va in parrocchia la sera sta a casa tutte queste realtà non sono pezzi scombinati della sua giornata fanno parte di un flusso unico della sua giornata adesso io quello che vi sto dicendo lo dico perché in un certo modo perché mi è successo tutta una serie di eventi da stamattina a oggi la nostra giornata non è fatta di pezzi diciamo sganciati quindi la visione della medicina nel futuro hanno iniziato a introdurre qualche anno fa le medical humanities eccetera ma è molto più larga è molto più larga la storia addirittura la storia ma non sto parlando di storie della medicina sto parlando della storia sto parlando dell'arte sto parlando della musica sono sono fanno parte diciamo della felicità del benessere della persona inclusa ovviamente la spiritualità quando parlo di spiritualità parlo di pratiche diciamo che aumentino la percezione del sé la percezione del proprio intimo eccetera poi ognuno può viverla da ateo può viverla da credente con la sua religione diciamo questi sono percorsi personali in cui non entriamo chiaramente non ci azzardiamo a entrare con il massimo rispetto però un fattore una linea diciamo comune tutti quanti ce la possiamo avere gente che vota a destra gente che vota a sinistra gente che vota in alto gente che vota in bassa con la pelle gialla verde nero del genere sessuale x y z a a e così via della cultura di questo di quest'altro tipo bambino grande eccetera ok e questo ci accomuna tutti tanto è vero che e chiudo veramente ve lo prometto l'esperimento che a me più piacerebbe fare al museo è quello di dimostrare che di fronte ad un'opera d'arte alla stessa opera d'arte c'è sì differenza tra diciamo un anziano un giovane una donna un uomo una persona colta su quell'opera perché è un critico d'arte e così via ma esiste qualcosa di unico e di comune a tutti cioè il bello il bello che non ha necessità dell'interpretazione della forma il bello che in sé è bello che sfugge qualsiasi tipo di cultura che sfugge qualsiasi tipo di sovrastruttura umana culturale diciamo e e forse qualcosina si riesce a vedere si riescono a vedere dei segnali dei biosegnali si riescono a vedere delle cose comune speriamo di riuscirci perché questo sarebbe un bellissimo diciamo anche messaggio un bellissimo messaggio che esiste qualcosa che va molto al di là diciamo della nostra piccola come dire e ridicolizzazione della nostra piccola ridicolizzazione di un qualcosa di gigantesco meraviglioso che noi riduciamo sempre in qualcosa di molto molto piccolo e limitato grazie